La Giunta di Battipaglia ha dato mandato all'ufficio legale di valutare possibili illegittimità nei decreti dirigenziali della Regione con i quali si autorizzano attività imprenditoriali ad aumentare i quantitativi di rifiuti trattati senza richiedere l'assenso del Comune. Alla base della decisione dell'esecutivo, l'ultimo decreto arrivato da Palazzo Santa Lucia, che ha autorizzato ad un'attività che si occupa di trattamento rifiuti sul territorio, lo stoccaggio di ulteriori 1.050 tonnellate annue di rifiuti, 150 delle quali pericolose. Una situazione che ha indotto la Giunta a valutare possibili illegittimità nei provvedimenti della Regione.